Bene, buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, martedì, mi sembra, 5-6 agosto, qua è un casino perché sto dall'altra parte del mondo, però insomma ci siamo capiti, è il giorno in cui è stato approvato il decreto sicurezza bis. Cosa succede? Intanto i titili fondamentali sono su che cosa politicamente vuol dire questo decreto sicurezza bis approvato con 160 voti al Senato. In realtà soltanto Italia Oggi poi ci spiega che vuol dire un milione di euro addirittura di multa per l'ONG, cosa vuol dire sull'ordine pubblico, cosa vuol dire ad esempio in termini anche di reati commessi dalle eventuali carole. Il tema invece appassiona moltissimo i giornali su che cosa vuol dire politicamente. Secondo due profili, ve li leggo con intanto governo salvo, il titolo del Corriere della Sera diciamo il più asettico, in realtà sul decreto legge sicurezza bis si passa per 160 voti. Forza Italia si astiene e comunque è del tutto evidente, lo si capisce dal giornale, che se non ci fosse stato il voto o l'astenzione benevola di Forza Italia sarebbe stato complicato farlo passare, anche se non impossibile, vi segnalo che pochi giorni fa è passato un decreto con 158 voti, la maggioranza al Senato è di 161 voti. Politico, il Polito oggi sul governo, titola e scrive in maniera abbastanza chiara, sarebbe stato contro natura pensare che i parlamentari, chiusa la finestra elettorale di settembre, facessero cadere il governo. Cadere per che cosa se non si può votare a settembre? Travaglio favoloso, sentite che cosa dice il portavoce del Movimento 5 Stelle, o almeno di una parte del Movimento 5 Stelle, dice che in realtà con questo decreto non è che succede granché, anche perché il decreto brutto dice che era il primo decreto sicurezza, non quello bis, quindi poco importante, e dice che l'ultima cambiale che il Movimento 5 Stelle ha firmato è per il governo, in realtà il governo Conte ha un bilancio più positivo che negativo, indovinate un po' perché? Per le riforme che ha fatto il Movimento 5 Stelle, io vorrei sapere quale sono queste riforme fatte lo spazzacorrotti, quella era la riforma del Movimento 5 Stelle, insomma comunque giudizio positivo riesce a dire il portavoce del Movimento 5 Stelle al governo nel momento in cui tutti i giornali che, devo dire in maniera un po' più equilibrata, equilibrata anche se poi i titoli sono i castici, fanno capire quello che succede, Salvini, leader del 5 Stelle, è la battuta del giornale, o Salvini, si mangia il Movimento 5 Stelle, è la battuta di Repubblica, ma è quello che è evidentemente avvenuto ieri con 5 dissidenti del Movimento 5 Stelle e loro che si sentono in grandissimo imbarazzo per questo decreto che non amano. Poi dopo però ti vai a leggere quello che scrive Massimo Giannini sulla Repubblica, che dice ragazzi qua però stiamo dando fuori di testa, dice Giannini sulla Repubblica, che ci sarebbero, il titolo è, ripeto, Salvini, si mangia il Movimento 5 Stelle, perplessità sul decreto del Quirinale. Poi leggi le prime dieci righe di Giannini, editorialista della Repubblica, che leggi, aspetta, boccate di olio di ricino, a boccate di olio di ricino questo governo sta continuando, però qua non va, perché se questa è una boccata di olio di ricino, allora non ci fidiamo più di tutto quello che tu puoi scrivere e puoi dire, caro Massimo, perché qui mi sembra che ci sia stato un voto parlamentare, e il voto parlamentare è stato un voto anche non di maggioranza assoluta, non c'è, ci sono dei meccanismi parlamentari che non sono esattamente quelli scelti da De Benedetti, scelti dalla Repubblica, quelli che piacciono a voi, perché a boccate, poi vedremo Giuliano Ferrari in un pezzo straordinario, di repubblicanate, qui noi faremo non una democrazia, ma una specie di teocrazia decisa da De Benedetti con Gad Lerner e forse Massimo Giannini. E funziona così che se il Parlamento vota un decreto, è votato tanto più che lo stesso Giannini smentisce il suo titolo, e sapete perché? Perché dice che il Presidente della Repubblica firmerà il decreto votato dal Parlamento per il suo dovere costituzionale. Allora mi dovete spiegare, se qui per questo decreto sicurezza c'è l'olio di ricino, perché? E voi dite che il Quirinale ha dei dubbi e poi lo firma perché il Quirinale è complice dell'olio di ricino? Cioè Mattarella è complice dell'olio di ricino di questi presunti fascisti che stanno facendo digerire l'olio di ricino agli italiani? Qua siamo tutti quanti fuori di testa, se pensiamo che si contrasti la destra o il centro-destra o un certo centro-destra, con questi argomenti. I stessi argomenti che vengono utilizzati su Trump, che è diventato praticamente il suprematista bianco che uccide nei supermercati. Come se fosse nata con Trump questa specie di, come posso dirvi, moda allucinante americana, in cui una volta ogni due, tre o quattro o cinque mesi c'è qualche pazzo che va a sparare nei supermercati. E non mi dite che questo è un fenomeno trampiano, come sembrava di leggere il giornale di ieri, mi scuso, ieri la zuppa non l'ho fatta. Adesso, improvvisamente, ci accorgiamo che in America si spara e si ammazzano. In questo caso il suprematista bianco. In realtà è quello che Trump ha già definito in qualsiasi maniera orribile. Nel frattempo però, sui giornali italiani, continua l'idea di un'Italia razzista. La mamma di un bambino di colore, adottato di colore, dice che dopo che questo bambino ha tirato una pallonata che ha colpito in faccia una signora, il marito di questa signora l'ha aggredita. È sbagliato aggredirla, come forse bisognerebbe stare più attenti col pallone e che se fosse stato un bambino italiano probabilmente quella mamma sarebbe stata aggredita nella stessa identica maniera. Forse non c'è razzismo, forse c'è soltanto reazione, potete anche definirla eccessiva, io non l'ho vista, non la conosco di una signora che se è beccata una pallonata in faccia forse un po' incazzata può anche essere, se sei bianco, giallo, asiatico, se sei porro, se sei alto, se sei basso, una pallonata non lo ritengo. Ma non so se è tutto razzismo, perché oggi cos'altro leggo? Il solito avvenire, è stupendo l'avvenire, cos'è che dice? L'avvenire l'ho segnato, così, vabbè, insomma, l'avvenire me lo sono perso, però c'è il solito tema del... Ah sì sì, come no, su Trump, l'avvenire su Trump che dice che c'è il razzismo in America, poi dopo ci spiega che il razzismo è nei confronti degli ispanici e cattolici, non ho capito, non c'entrano più gli afroamericani, ma i cattolici, però è in tutto questo mischione, Salvini, il razzismo, i morti, i suprematisti bianchi, tutta una specie di mischione per cui c'è anche un po' di fascismo, come ci dice Giannini, pavoloso, oggi Giuliano Ferrara, dovete leggerlo, perché Giuliano Ferrara la prende per il culo, anche se non lo fa quanto vorrebbe, o anzi lo fa quanto vorrebbe, con la penna, quando gli viene veramente sublime, quelli che stanno rompendo le balle sul papete, sul papete di Salvini, e dai calzini corti e grigi di Aldo Moro, alla bandana del Cavaliere, a cos'altro c'era, perché ne ha citato un altro, Giuliano Ferrara, un pezzo favoloso, alla bandana, alla canottiera di Bossi, vi la ricordate della canottiera di Bossi, dite se lo scontro è tra le vacanze pacchiane e le vacanze intelligenti che piacciono all'Espresso, state attenti, dice Ferrara, che la partita è fatta, hanno vinto certamente le pacchiane, perché sono le vacanze popolari, sono le vacanze dell'Adriatico, non quelle nostre fighette del Tirreno, dove ci sto io, dice Ferrara, e Calenda, e ha perfettamente ragione, incriminare il truce in vacanza sull'Adriatico, perché è caffone o a torso nudo, è assolutamente incredibilmente sbagliato, semmai incriminiamolo per il fatto che sta meno al Viminale, ma non certo per il fatto che va a fare le sue caffone vacanze, o normali vacanze, o a torso nudo alle vacanze, eccetera, secondo me è geniale, il foglio oggi non perde l'occasione, il foglio, credetemi, voi non lo amate, ma il foglio è sempre nella sua, diciamo, intelligenza, talvolta anche faziosissima, e la conosco bene, avendoci lavorato tre anni fa, alla fine qualche chicca la trovi sempre, anche contro di noi, c'è ancora quello là, come si chiama quello là che sosteneva che noi facevamo le fake news, poi si è accorto, ti si è accorto, com'è che ti chiami, che poi dopo sono arrivate le fake news, anche da Lorenzo Cremonesi, hai visto il nostro video sull'ONG, e il collegamento con, no, forse le fake news, come tutti i fact checker, lasciamolo perdere, Scaroni, favoloso, oggi sul foglio, intervistato al foglio, che certamente non può essere considerato un salviniano, che dice, beh, Salvini si batte come un leone per contrastare l'incredibile immobilismo del Movimento 5 Stelle e i danni che possono fare, quindi una specie di limitazione del danno, nell'idea di Scaroni, ex amministratore delegato dell'ENI, di quello che potrebbero fare i 5 stellati. Le cose vere sono invece drammatiche e riguardano l'America e questa follia dei dazzi di Trump, quella sì è una follia, continuate a rompere i coglioni a Trump sulla questione, diciamo, del suprematismo, del razzismo, del muro, e non vi rendete conto che il vero problema di Trump sono questi dazzi commerciali del 10% su 300 miliardi di Euro di merci cinesi, che fino a quando sono una dichiarazione, insomma, spaventano i mercati, ma se dovessero avvenire veramente, come dice Bastia, quando non passano le merci passano gli eserciti. Le vere guerre commerciali si trasformano sempre in guerre e questi guardano il dito e non la luna, cioè i problemi di Trump sono il suo, diciamo, chiusure commerciali, non le sue politiche interne, ma anche se le une potrebbero essere figlie delle altre, obiettivamente. I nuovi dazzi nei confronti della Cina annunciati hanno reso il lunedì di ieri nero come il venerdì della settimana scorsa, ne parla molto diffusamente il sole 24 ore, ma ovviamente non solo lui. Così gli americani vogliono farla franca, infine il titolo di, come si chiama, di Bekis e del Tempo, che ci dice perché e come la difesa vorrebbe la scarcerazione anche del reo confesso l'omicidio del carabiniere a Roma. È arrivato il padre che comunque ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera nella quale non si spiega quello che è successo. che altro ci abbiamo? Ferrara velocitato, Scaroni velocitato, beh direi che per oggi tutti i nostri dieci minuti sono passati, una buona vacanza se l'avete iniziata tutti quanti voi da questo splendido posto nel Pacifico in cui mi trovo. Ciao!